bella regà qua è savix che vi parla benvenuti in questo nuovo video bentornati ragazzi oggi glitch bomba più che glitch ragazzi come sbloccare questi pantaloni a scacchi segreti sono assurdi ragazzi cioè è una cosa che io ancora non mi compacito ma possiamo iniziare allora ci dirigiamo in un qualsiasi negozio di vestiti ragazzi andiamo sui pantaloni cargo e indossiamo questi casual blu ragazzi non ci possiamo sbagliare sono i primi sia nel maschio sia nella femmina a questo punto una volta che ce li siamo indossati ragazzi e quindi l'abbiamo anche comprati semplicemente ci allontaniamo di qua e andiamo nella parte delle scarpette ragazzi una volta che siamo dalle parti delle scarpette dobbiamo andarci a cercare regà i stivali questi qua impermeabili che stanno alla fine praticamente una volta qua clicchiamo ragazzi su stivali impermeabili ci indossiamo questi trekking camo ciano dopo di che regà dovremmo fare un'ultima cosa tornare nella parte dei pantaloni ragazzi cliccare freccia destra andare su i cargo ragazzi e sbada bam vedrete che per primo ci saranno quelli a scacchi ragazzi è assurdo metodo segreto per ottenere i pantaloni a scacchi in gioco allora 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 c'è sempre un però come al solito ragazzi questi sono i cargo per ottenere effettivamente i jokers e cosa dobbiamo fare raga tanto salvarcelo in uno slot io andrò a sacrificare qualche outfit perché c'è tutto pieno e una volta che decidete dove salvarvi questo outfit possiamo fare un trick ci andiamo raga selezionare il magic slot sopra quello degli outfit che vi ho portato in questi giorni e sbada bam raga jokers a scacchi è una bomba quindi ragazzi invito a chi si è comprato il magic slot di fare assolutamente subito questo glitch invece chi ancora non si è comprato il magic slot ragazzi solo per xbox next gen compratelo subito raga quindi a questo punto fate l'outfit che volete vi potete divertire a fare quello che volete perché chi ha comprato il magic sa cosa può fare con sta roba ragazzi quindi a questo punto vi faccio vedere invece chi non ha il magic cosa può fare per tenere i pantaloni più o meno in questa maniera come potete vedere se noi andiamo a cambiare le scarpe ragazzi ci verrà il pantalone cargo che comunque sia raga è sempre una cosa rara perché non è in game bisogna sbloccarlo tramite questa maniera segreta ok ragazzi invece se volete un pochettino i pantaloni più stile joker se dovete mettere per forza i scarponi quelli antipioggia chiamiamoli così quelli impermeabili ragazzi a sto punto lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete questo video altrove mettete il tag perché ragazzi come al solito sono il primo in italia a portarvi ste chicche e alla prossima bella grazie a tutti